Ancora nessuna notizia di Orlando Gitti, l'uomo di 87 anni scomparso dalla struttura di Baceno, dove era ospite, dal pomeriggio di domenica. Al momento dell'allontanamento Gitti indossava solo un maglione chiaro, pantaloni grigi, scarpe chiare. Affetto da problemi cognitivi, si pensa che l'anziano, trascinato dai ricordi, possa essersi diretto alla volta di Caddo di Crevola d'Ossola dove vive la famiglia, oppure a Villa d'Ossola. Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Beba Steck House, a Ornavasso.